L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha segnato profondamente l'universo dell'infanzia e della preadolescenza. Secondo i dati rilevati dall'autorità per le garanzie nella comunicazione Agicom, durante il periodo di emergenza una parte consistente degli studenti è stata tagliata fuori dal processo educativo. Il 12,7% degli studenti, circa uno su otto, non ha ossufruito della didattica a distanza. Il digital divide ha costituito un limite severo nel processo formativo di bambini e ragazzi ed un inasprimento delle disuguaglianze culturali e sociali nella popolazione. Anche l'indagine Aspetti della vita quotidiana di Istat nel 2019 indicava che in Italia il 12,2% dei ragazzi 6-17 anni viveva in famiglie senza un pc o un tablet, con divari sensibili tra nord 7,5% e sud 19%. Ricreare poi quella che sia la vera rete, la socialità, l'umanità, il confronto, anche perché abbiamo visto purtroppo che vi sono manifestazioni ovviamente di violenza tra gli stessi giovani. Noi adulti guidiamo i nostri ragazzi, siamo l'esempio, dovremmo essere la luce, quello che va a incidere nella loro formazione. Io credo che ad oggi proprio questi ragazzi abbiano bisogno dell'autorevolezza di noi adulti. ACS Abruzzo, circuito spettacolo, impresa sociale, in sinergia con l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, intende rispondere alla esigenza di ricondurre alla socialità gli individui, con associazioni ed enti culturali che operano sul territorio locale e regionale, al fine di costruire un'offerta educativa e formativa incentrata sulle metodologie e le pratiche dello spettacolo dal vivo. Noi quindi promuoviamo tutto ciò che sia un'attività di socializzazione, socializzazione dal vivo e quello proprio di incrementare nell'ambito della nostra regione proprio l'approccio a quello che sia il teatro, la recitazione. La rassegna Bianconiglio si articolerà in un cartellone ricco e coinvolgente con protagoniste e compagnie di alto valore professionale riconosciute a livello nazionale. Le città interessate sono Teramo Orsogna, Lanciano, Vasto, Termoli e Castel di Sangro. Il messaggio è quello di cercare di far tornare i ragazzi a vivere un luogo che è per eccellenza socialità, quindi i teatri, gli spazi teatrali e incentivare così un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di partecipare dopo i difficili anni del covid, della pandemia.